La senti questa voce? Ciao, sono Duccio Innocenti, faccio un grosso in bocca al lupo al Bari per il prossimo campionato. Vi ricordo inoltre l'appuntamento con Tanto Non Capirai del 28 agosto. Un saluto e forza Bari. Tanto Non Capirai! Tanto Non Capirai! Orgoglio Barese su L'Altra Radio. Tutte le mattine, da lunedì al venerdì, dalle 7, ospiti, rassegna stampa, indiscrezioni e la voce dei tifosi. Appuntamento con Nicola Lucarelli e la squadra di Orgoglio Barese.it. Tanto Non Capirai! Il cuore bianco-rosso, a voce! Replica alle 13.15